Per aver dato lustro con i suoi studi al nostro territorio, con rigore morale e tenace impegno nella ricerca. Con questa motivazione la provincia di Lucca ha consegnato ad Edda Bresciani la Pantera d'Oro 2012, riconoscimento che l'amministrazione Baccelli consegna a coloro che per alti meriti hanno onorato la provincia di Lucca. Lucchese Doc, professore merito dell'Università di Pisa, membro dell'Accademia Nazionale dell'Incei e dell'Accademia delle Belle Arti di Parigi, già insignita di vari premi onorificenze, tra le quali la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per la Scienza e la Cultura. Edda Bresciani, già ordinaria della Cattedra di Egittologia e specialista di studi sull'Egitto e di epoca, a che Menide si è detta entusiasta di ricevere l'ambito riconoscimento. Come Lucchese, Lucchese Doc, veramente sono molto contenta perché la Pantera è proprio il simbolo di questa città da secoli, lo sappiamo bene. E poi insomma il riconoscimento di una vita vissuta come studiosa. È attualmente direttore della rivista Dallè stessa fondata nel 1978 Egitto e Vicino Oriente.